La nostra grande guerra è quella spirituale. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in barca! E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere. Se questa è la prima volta al Fight Club, dovete combattere. Devi avere coscienza, non paura. Era davanti agli occhi di tutti. Tyler e io l'avevamo solo reso visibile. Posso partecipare? Era sulla punta della lingua di tutti. Tyler e io gli avevamo solo dato un nome.